Musica Il tiro dalla distanza Gran rete di Sofia Girardi Con l'aiuto dell'attraverso 3 a 0 di parziale 6 a 5 Musica 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 Sempre contro Prouter che fa un passettiro avanti rispetto all'ultimo tiro dai 7 metri non cambia però l'esito è il gol che permette spoke Musica 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 Braco a prendere 7 metri trova comunque il fallo Musica Non sbaglia ad ora a narrete per il la 22 a 19 più che mai adesso perché mancano 18 secondi deve segnare subito e poi difendere Monica Proouter L'intervento di Monica Prunster vuol dire una sola cosa Il La Briggs su Tirol vince la prima Coppa Italia E la sua storia lo fa battendo le campionesse d'Italia della IOMI Salerno 22 a 20 con l'ex Monica Prunster Che para sul tiro che avrebbe potuto permettere alla IOMI Salerno Di rientrare in partita, di giocarsi le ultime carte Bressalone però è stata sempre, praticamente sempre avanti nel corso della partita Con una grande gara Grazie a tutti